Laurea in giurisprudenza, la Sapienza di Roma, ci dà la risposta, no. Quindi è ufficiale, non possiamo essere querelati su questa cosa. La Sapienza ha detto no. Nessun esame, quindi era confermata la nostra tesi. Però poi abbiamo scorso, allora siamo andati a curiosare nel curriculum molto vasto del ex professor Mario Benotti. Cioè abbiamo scoperto una cosa che ci porta in Vaticano. Che cosa abbiamo scoperto? Guardate, attenti, perché sempre nel suo curriculum, gradi in utroquo e iure presso la Pontificia Università Lateranese conseguiti nel 1989. Che cosa sono? Una formula che corrisponderebbe praticamente a una seconda laurea in diritto canonico, civile, quindi insomma una seconda laurea. Ma cosa direbbe Sordi? Ma cosa direbbe Sordi anche il Vaticano? Ci sarà? Vediamo le nostre verifiche. Gradi in utroquo e iure, Pontificia Università Lateranese. Secondo voi cosa comparirà? La X o no? Vai con la X. Niente da fare. La sala pontificia, la sala stampa pontificia, ha detto assolutamente no. Mai ha avuto a che fare con questo personaggio, addirittura, siccome lui si spaccia anche dipendente della radio Vaticana per un certo periodo, neanche quello è stato. Parlano i viaggi con Papa Giovanni Paolo II, la risposta ufficiale non è anche questa. Poi magari se si è aggregato in qualche modo può anche essere, ma ufficialmente c'è questa risposta. Allora io chiedo a Sandra Morri, ma perché secondo te quando la guardia di finanza degli uomini del generale Vito Giordano vanno a perquisire la casa di Benotti, lui fa scrivere a verbale non la laurea della sapienza, ma dice io sono laureato alla pontificia lateranense. Perché? Perché pensava che in Vaticano i segreti si costruiscono di più? Beh, bisognerebbe stare dentro la sua testa e stare dentro una testa del genere non è cosa facile. Ma è...